Anzitutto davanti a noi non ci sono stati danneggiamenti commessi davanti sotto gli occhi delle forze dell'ordine ma in quella situazione davanti a una marea dei bambini che uscirono dagli asili davanti a un sacco di turisti, inermi, donne, vecchi, bambini, tifosi, la piazza strapiena di gente un intervento sarebbe significato esplodere una miccia non controllabile avremmo fatto nastragi, questo non è possibile I tifosi olandesi non erano identificati?